Soddisfazione da parte dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna per l'approvazione da parte del Consiglio regionale lo scorso 30 marzo del progetto di legge riguardante un pacchetto d'aiuti ad hoc destinati all'Associazione. A presentare la richiesta l'assessora regionale all'agricoltura Gabriella Murgia che secondo le parole del presidente di Ars Sardegna Luciano Useli Bacchita ha colto le loro richieste sulla necessità di dare un quadro normativo attuale all'Associazione. Con questa nuova legge, commenta Aldo Manunta, direttore dell'Ars Sardegna, sono anche previsti contributi per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione alle mostre del settore nella misura del 100% delle spese sostenute. Ma sono molteplici le attività che grazie agli aiuti stabiliti dal Consiglio regionale l'Ars Sardegna che oggi conta 3.600 allevamenti e 70 dipendenti potrà continuare a svolgere a partire dalle funzioni di misurazione delle performance produttive negli allevamenti da latte e da carne per conto dell'Associazione Italiana Allevatori e degli Enti Selezionatori. E' inoltre in corso con il coordinamento scientifico dell'Agenzia Agris il programma per la valorizzazione della pecora di razza sarda che punta a introdurre negli allevamenti ovini tecniche innovative, per esempio la selezione genomica. Un impegno che si affianca a quello con cui l'Ars Sardegna sta ponendo le basi per la realizzazione su larga scala della prima filiera certificata del suino di razza sarda.